Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, di letteratura, quasi tutto comunque collegato al mondo della settima arte. Quello che state per vedere è un Frusciante al cinema, è un video quindi che faccio quando ho appena finito di vedere un film in sala e del quale mi va di parlare a tutti. Come dico sempre, la prima visione può essere in un certo senso diversa dalle altre, quindi magari il mio giudizio verso il film potrebbe cambiare in positivo o in negativo appunto con la seconda, terza, quarta visione. Il film di cui sto per parlare è un film che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima in Italia al Florence Korean Film Festival dove sono stato curatore insieme al noto critico John Chin Hill della sezione degli anni 60 e quindi vi preparo già che farò un Frusciante al cinema appunto fra una settimana dedicato a questi cinque film degli anni 60. Quindi ringrazio un'altra volta a tutti quelli che fanno parte del Korean Film Festival di Firenze e che mi ha dato la possibilità insomma di vedere tantissimi film. Uno di questi, tra l'altro, ripeto, in anteprima italiana dopo che era stato presentato all'ultima mostra del Festival di Cannes del 2023, è appunto l'ultima opera del regista Kim Ji Won. Il suo film è Cobweb. Un film particolare, una commedia che comunque racconta una storia molto interessante. Partiamo un attimo da Kim Ji Won. Kim Ji Won è un regista che io amo dai tempi dei tempi, ovvero da quando fece Tales of Two Teasters, da quando esordì con The Quiet Family, quando portò avanti tutto il suo cinema con quel capolavoro che era Bittersweet Life, poi l'omaggio a Sergio Leone con il buono e il matti e il cattivo e il suo meraviglioso L'impero delle ombre per passare attraverso a una riduzione riuscita un po' a metà ma sempre interessante di Jin Ro, Uomini e Lupi, fatto in live action appunto in Corea. Un regista che ha girato un po' di tutto e che ogni volta che comunque mette la macchina da presa lì riesce a legararci. Una tecnica spaventosa e solitamente comunque sempre al servizio di una sostanza interessante come nel suo capolavoro Ice of the Devil, per esempio da poco uscito anche da noi in Italia. Questo Cobweb è un omaggio al cinema appunto coreano e d'oro, diciamo dal periodo d'oro, quello degli anni 60 e dei primi anni 70. Il nostro regista appunto narra la storia di questo director Kim, di questo regista praticamente, un regista di cassetta che fa film solitamente violenti, fa film erotici, film che vengono odiati dalla critica tranne il suo primo film, il suo esordio che in realtà fu esaltato un po' da tutti. Ha appena finito di girare il suo film Cobweb per l'appunto, del quale però non è assolutamente soddisfatto del finale e quindi chiede per tirar fuori il suo capolavoro altri due giorni alla produttrice per poter andare avanti con le riprese e poter portare a casa il suo film che così secondo lui diventerebbe un masterpiece per l'appunto. Il film riesce a partire nonostante nel mezzo poi ci sia una censura devastante, gli attori che fanno un casino dopo l'altro insomma perché ci sono tresche di ogni tipo, dove appunto anche i produttori cercano di fare di tutto e per nascondere, come ho detto allo stato, il fatto che il film possa essere portato avanti, dentro a tutto questo ne trovavo una narrazione molto particolare perché vediamo insomma il film che sta girando il nostro Kim interpretato all'astra grande da un song ko in una parte magnifica che è praticamente in bianco e nero ed ha una tinta molto gotica e invece poi la narrazione appunto della creazione del film e in realtà con un colore incredibile che il direttore della fotografia Kim Ji Yong porta avanti in maniera incredibile proprio perché la fotografia è una delle parti più interessanti di questo film. Un film come ho detto che narra appunto le gesta di un regista che vuol creare, vuol portare a creare a tutti i costi la sua opera come lui davvero vuole. E in tutto questo ripeto si scontra con una produttrice fantastica, con un'attrice splendida che la interpreta e con anche la nipote dell'ex proprietario degli studi che è morto appunto e che l'ha lasciato in mano alla moglie come ho detto. E in tutto questo si intersecano le storie di attori protagonisti che praticamente hanno delle tresche, il nostro attore protagonista del film è convinto di aver messo in cinta la giovane protagonista che anch'essa fa le bizze, in tutto questo poi c'è la vecchia attrice che non riesce a rivedersi e non riesce a capire perché tutti questi cambiamenti e in mezzo come ho detto c'è una censura che schiaccia tutti e che rende praticamente quasi impossibile la lavorazione del film. Quindi un film metacinematografico che parla del cinema e parla del periodo d'oro di un certo tipo di cinema sudcoreano come ho detto. E tutto il film va avanti in realtà come una commedia degli equivoci dove la parte diciamo in bianco e nero è realmente costruita in modo perfetto dal nostro Kim Jiwon che riesce a utilizzare dei movimenti di macchina clamorosi, di piano sequenza incredibili, un'idea appunto dell'utilizzo della luce, dell'utilizzo degli spazi veramente notevole come dal suo solito perché a livello tecnico il film è assolutamente inattaccabile così come secondo me per la sceneggiatura, una sceneggiatura veramente formidabile a tratti che riesce a farci pensare però riesce a farci ridere ogni tre per due senza mai utilizzare né situazioni volgari né assolutamente roba che va sul surreale. Anzi tutto quello che ci fa ridere è proprio la lavorazione del film, tutto quello che viene costruito per arrivare a questo film. Una delle parti più belle è quando arriva diciamo così quello della censura, il primo che viene fatto ubriacare sempre di più per cercare di continuare ad andare avanti e che chiede essenzialmente al regista e alla produttrice di fare un film anticomunista. Loro si guardano in questa faccia strana e dicono sì sì i comunisti verranno bruciati, distrutti in questo film quando nel film non c'è assolutamente traccia visto che lui sta girando comunque un thriller psicologico avantissimo. E quindi il film si divide appunto come ho detto fra queste due visioni ma sono due visioni che in realtà sono la stessa, la stessa quella di Kim Jiwon che omaggia i suoi registi preferiti appunto degli anni 60 e 70 attraverso il vecchio film e che omaggia se stesse, omaggia anche il lavoro appunto del cinema e del dietro quinte del cinema stesso attraverso il film a colori come ho detto. Un film che riesce ad avere un ritmo incredibile grazie al montaggio dello stesso regista appunto Kim Jiwon che riesce a donare il ritmo giusto a tutto. Ma sono fantastici come ho detto i personaggi. Partiamo dal direttore, dal regista Kim, questo Song Kao che si cala perfettamente nella parte di quest'uomo che non vede riconosciuta la sua arte e che in realtà comunque come più o meno tutti gli altri protagonisti del film ha un segreto nascosto ben bene e che nessuno vuole, che chiaramente non vuole che venga a galla. E vive costantemente sulla schiena praticamente diciamo così l'ombra del suo maestro che morì durante le riprese di un film pur di portare a casa una grandissima ripresa sotto un incendio stratosferico in un flashback che verrà ricostruito in maniera stupenda. E di lì poi tutte appunto le allusioni al fatto che lui non abbia mai veramente scritto il primo film e quindi questo film sarebbe la sua rivalza verso la critica, la sua rivalza verso chi lo ha sempre considerato uno che non è buono a fare un cazzo praticamente. E il film si muove attraverso veramente una serie di sequenze, una più divertente dell'altra che però non sono mai slegate. C'è la scena in cui la protagonista deve stare lì sdraiata, che deve essere riempita di sangue e che fa finta la ragazza di avere una specie di allergia appunto al sangue finto e quindi vediamo che come protagonista vorrebbe arrivare appunto l'aiutante del nostro regista che però è un incompetente totale ed è una delle scene più divertenti del film ma è una dietro l'altra. Tutte le scene con la censura come ho detto sono mirabili per farci capire anche come in realtà all'epoca in Corea si giravano certi film ed è incredibile come il nostro riesca in realtà all'interno del film stesso a girare attorno a questa censura attraverso delle promesse, attraverso delle visioni che poi non saranno assolutamente mantenute. È un film che comunque regala anche uno sguardo triste in un certo senso verso un periodo d'oro di un'epoca che stava per finire con una dittatura che falcerà il cinema, falcerà gli artisti e falcerà studenti e tutti negli anni 80 come potrete vedere per esempio nel film sempre con Sang Ko, bellissimo, sempre coreano, a Taxi Driver, sempre sudcoreano. Quindi un atto d'amore, un atto di fede in un certo senso, un atto verso un qualcosa che è la creazione, la creazione artistica vista attraverso lo sguardo di tantissimi, vista attraverso lo sguardo come ho detto del neofita, vista attraverso lo sguardo di un regista che vuole la sua dipendenza, vista attraverso lo sguardo di una produttrice che comunque vuole fare soldi a tutti i costi, vista anche attraverso lo sguardo di una censura miope, completamente fuori da ogni logica e che pretende esclusivamente quello che vuole tramite un film che comunque parla di tutt'altro. Kingi Buoni in un certo senso riprende alcuni temi del suo primo film e lo trasporta nel suo, diciamo così, 8 e mezzo, nel suo effetto notte, dove chiaramente non appare se stesso ma si capisce che c'è un po' del nostro Kingi Buoni all'interno del nostro regista Kim che comunque a quanto pare riflette due, tre registi appunto famosissimi dell'epoca d'oro della Sud Corea degli anni 60. Un film che mette di fronte allo spettatore tutta la fantasia visiva di un regista che riesce incredibilmente a muovere la macchina appresa come sempre vuole, con quei fantastici pianosequenze, con quei dolli, con quei carrelli a seguire che smontano praticamente il set cinematografico ed è molto interessante vedere come il nostro dirige la scena e che quindi la vediamo con un montaggio diverso e poi vediamo la scena completata e lì il cinema vive ancora un'altra volta. Forse non siamo di fronte a un capolavoro, chiaramente è un film che parla di cinema come altri ne hanno parlato, ma lo sguardo di Kingi Buoni però è sincero, è libero e c'è un attacco alla critica anche simpatico in un certo senso e che il nostro regista rivolge attraverso appunto il protagonista stesso. Per un film, come ho detto, recitato benissimo da tutti, è fantastico il protagonista del film con i suoi modi di fare, col suo essere così donnaiolo, il suo non rendersi conto praticamente di rovinarsi più o meno la carriera e rovinare la vita agli altri, così come è fantastica l'attrice protagonista giovane che vuole essere lanciata sempre di più e che non è un minimo rispettosa di chi in realtà gli sta facendo avere quella carriera e che vuole andare a tutti i costi a girare la serie tv. Meravigliosa l'idea di chiudersi dentro con le catene per non far scappare nessuno, se no sarebbero scappati tutti per fare altri lavoro perché questo regista vuole due giorni per tirar fuori il suo capolavoro, ripeto, finale memorabile dentro una sala del cinema gremita per un'opera che secondo me riesce veramente a farti prendere, a farti entrare dentro lo sguardo perché tutta la parte in bianco e nero, ripeto, è girata in una maniera memorabile ed è piena d'atmosfere, riesce a staccare con l'atmosfera precedente e questa è la grandiosità anche di questo film, che riesce a mescolare questi due piani, ovvero il piano della lavorazione e il piano del cinema nato, fatto in una maniera assolutamente a tratti unica, naturale, senza alcuno sforzo di scrittura, sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Shin Yeong-shik che riescono a fare un lavoro incredibile proprio nei dialoghi, i dialoghi sono fortissimi e danno un ritmo fantastico sia alle gag più comiche sia appunto alla lavorazione stessa del film che è comica di suo, è un film che non spinge assolutamente sul surreale, non spinge assolutamente sul grottesco e tutto quello che succede, succede in maniera spontanea e poi ci sono le scene veramente fantastiche di tutta la troupe che cerca in tutti i modi di riuscire a trovare una soluzione per dei piccoli problemi che nascono ogni 15 secondi perché ripeto non è tanto la lavorazione solo di quei due giorni ma è proprio l'idea del produttore perché il film era già finito, era tutto pronto ma la forza appunto del direttore Kim è più forte di quelli che lo vogliono fermare in un certo senso e quindi fa una specie di rapimento verso tutti che sono tutti indisposti in realtà verso il regista tranne appunto la nipote dell'ex proprietario degli studi e tranne probabilmente le persone che lo hanno seguito da più tempo, ma ripeto è un film che vive anche in un certo senso di flashback, di ricordi, sono in realtà la verità quello che è davvero successo e tutto è intersecato su questi due piani come ho detto di visione che sono per il sottoscritto gestiti veramente alla stragrande, il film tra l'altro dell'orrore che il nostro sta creando inquieta con queste grandissime idee appunto di montaggio che vivono all'interno di questo film ma poi è essenzialmente fantastico come ripeto Kim Ji Won nel film dentro il film riesca a raccontarci la costruzione dell'arte, la costruzione dell'arte di un artista che sembrerebbe però insoddisfatto anche di quello che sta girando in quei momenti, attaccato comunque ad ogni scelta che vada contro qualsiasi cosa, non gliene frega un cazzo se gli attori non gli va bene, non interessa niente se i produttori lo tratteranno male, è sempre pronto a dire di sì 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 ma per poi averla vinta lui, quindi un personaggio veramente fantastico ma non c'è un personaggio secondo me minore in questo film, anche i personaggi della censura che poi arriveranno dopo sono splendidi pure loro con la produttrice che tenta in tutti i modi non solo il primo di farli ubriacare, di farli avvicinare dalle star, di fare qualunque cosa per non fargli notare il fatto che in realtà quindi i comunisti non si parlano, non ammazzano nessun comunista e non prende fuoco nessun comunista nella scena meravigliosa in cui gli gira diciamo così le quinte e davanti al viso per dirgli no no di là stiamo dando fuoco a comunisti, non si preoccupi solo che la macchina appresa fa un 360 quindi dobbiamo tappare tutto ma vedrà tutto a scene finite. Per un film ripeto che racconta l'amore verso il cinema, racconta con una forza secondo me incredibile a livello visivo tutto quello che il cinema ci dà, la soddisfazione della risata, la soddisfazione del drama, la soddisfazione della paura perché è un film che riesce a stare anche in tensione perché tu sei sempre lì attaccato a questa rincorsa per un montaggio che sembrerebbe frenetico ma che lentamente invece ti accorgi essere precisamente in linea con quello che il regista vuole raccontare, ovvero sì la frenesia di un set, ovvero sì l'idea appunto folle di uno di rigirare in due giorni tutto per cercare di dare forma alla sua idea, ma soprattutto si riesce a raccontare la vita di queste persone attraverso uno sguardo completamente interno perché è difficilissimo che si vada in esterni, si vede pochissimo, è quasi tutto dentro questi studi cinematografici che riesce però a raccontare in realtà la corea del tempo, la corea del periodo, il modo di fare cinema, la censura, cosa che naturalmente i cineasti odiano tutti in tutti i mondi, è un film che porta avanti la teoria un'altra volta del cinema dentro il cinema, metacinema alla grande che però risulta essere veramente stramba perché è una commedia pura, una commedia dove si ride, c'è anche lo slapstick, c'è anche un certo tipo di comicità quasi del muto che si rilega però a una comicità molto moderna, anche la voglia di mettere in scena gli anni 70 è perfetta sia come costumi sia come scenografie però non è un film assolutamente nostalgico, è un film che vive di una postmodernità nella messa in scena paurosa che ci ricorda che il grandissimo Kim Jong-un fa parte di quella nuova ondata di fine anni 90 di un cinema sudcoreano che aveva tra, che continua a avere tra le sue file un grande come Park Chan-wook, il mitico Bong Joon, il grandissimo regista di Gok-sung, Yellow Sea oppure del bellissimo Cesare ovvero Na Hong-jin, veramente un genietto così come il regista di The Barming, Lee Chan-dong, altro veramente mostro della macchina presa, questa nuova ondata veramente è piena zeppa di grandissimi autori e sono così forti e così grandi e l'ho capito dopo aver fatto appunto la masterclass con il grandissimo critico John Chin-il che appunto vengono tutti da questa scuola meravigliosa di questo cinema anni 60 del quale parlerò come vi ho detto in Un frusciante in Oriente di qui a poco, poi farò anche Un frusciante in Oriente su tutti i film dell'anno insomma in gara al Korean Film Festival e mi andava veramente comunque intanto di parlare di questo Cobweb perché mi ha veramente flashato uno dei classici film che mi si sono attaccati addosso subito, poi abbiamo avuto la possibilità e l'onore anche di incontrare San Kao, di stare con Kim Ji-won, ho avuto la possibilità e l'onore di parlare della mia monografia, mi era molto contento quindi insomma che dire di più, per me è stata un'esperienza doppia, tripla all'interno del metacinema perché ho visto Cobweb nel quale si gira un film dell'orrore negli anni 70 a bianco e nero nel quale però all'interno troviamo il metacinema di loro che girano e poi me li sono ritrovati davanti e quindi per me è diventato un metacinema dentro un metacinema che diventa totale realtà, anche se è un affare mio però mi andava di dirvelo per un film, ripeto che è stato già acquistato in Italia e quindi uscirà e che dovrà praticamente far scoppiare le sale se esce perché è veramente un film di quelli che possono garbare a tutti, pieno di tensione, pieno di humor, pieno di dramma, pieno di grandi attori, uno più bravo dell'altro e con un regista che un'altra volta dimostra di avere una mano assolutamente di quelle più felici che si possono avere insomma, ripeto Bitter Sweet Life non è lì per nulla così come è lì per nulla To Sister, come è lì per nulla tutta la filmografia di un regista e di quelli che insomma non si dimenticano una volta visti i suoi film, grandissimo Son Kao, ripeto che è anche di persone molto simpatico ma che qui nel film riesce a cambiare umore, riesce a cambiare sempre la sua recitazione riuscendo però a essere credibile nel ruolo di quest'uomo che vuole raggiungere a tutti i costi l'amore dei critici e a tutti i costi diciamo così l'aura e la voglia di essere chiamato maestro nonostante già tutti ormai lo chiamano direttore ed è fantastico il nostro director Kim per un film ripeto che ho visto in lingua originale quindi probabilmente vale anche il doppio fantastici tutti e ripeto uscirà sicuramente nelle sale e quindi andatelo a vedere perché è un'opera assolutamente indispensabile nel nuovo cinema coreano per farci capire da dove arriva e poi perché sinceramente una commedia di questo tipo così interessante così veloce così piena zeppa di amore non la vedevo da tempo quindi non vi posso dire che il link è qua sotto perché chiaramente il film l'ho visto ora a Firenze al Corea Film Festival ma vi posso dire che qui sotto potete donare su Patreon per avere una vostra mini recensione o venire semplicemente a iscrivervi al Patreon per darmi una mano e per tenere vivo questo canale qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube seguitemi su Facebook e su Instagram pensate che cazzo faccio a giro per l'Italia mi piace la campanellina iscrivetevi al canale non vi costa nulla e questo KV Web secondo me è proprio un grandissimo film dove la ragnatela insomma è una ragnatela che è fisica nel film diciamo così degli anni 70 in bianco e nero e che diventa una ragnatela di persone e che si intersecano uno con l'altro attraverso appunto una soluzione sempre più infinita di contraddizioni e vita di un certo tipo di cinema appunto quello sud coreano del 60 e 70 che qui rivive con grandissima mano grazie al grandissimo Kim Ji Won grazie a tutti